Anche se piove, anche fuori dai ristoranti Scusami, scusami, posso chiederti cosa fai nella vita per avere questa macchina? Ah, no, palabra Scrivo, scrivo, ogni tanto scrivo delle canzoni decenti E un consiglio a un ragazzo che si approccia al mondo della musica? Fatelo se avete fame, raga, se avete cose da dire Se no lasciate perdere Quale momento della tua carriera in cui hai capito che ce l'hai fatta? Il primo dei due Alcatraz che ho fatto sold out Il 2019 Sold out l'Alcatraz significa quante persone? 3.500 per due volte Caspita, complimenti, vado che stai divulgando Ciao